Ciclo turisti della domenica o anche solo ciclisti che utilizzano le due ruote come mezzo di trasporto, attenzione! Tra le tante insiede dell'asfalto che si possono incontrare per le strade di Fano, ce n'è una a pochi passi dalla sede della cooperativa Tre Ponti, che è più subdola di altre, perché non è così evidente, ma se ci caschi dentro, forse non puoi più rimediare. Siamo in strada comunale Petruccia, subito dopo la famigerata rotonda di via Tommaso Campanella, in uscita dalla superstrada Fano Sud. La disavventura è toccata da un giovane ciclo turista che ieri, per un puro miracolo di equilibrismo, o forse altro, non è andato gambe all'aria sullo breccino, al lato della carreggiata, con disastrose conseguenze per lui e la sua bicicletta. Purtroppo per me, come anche oggi, voi potete notare, essendo qui con me, c'è abbastanza vento, vento che mi è costato caro perché praticamente sono andato un attimo fuori strada, grazie a Dio, è andato tutto bene, non mi sono fatto nulla. Il dislivello dal manto dell'asfalto al piano stradale originario è veramente alto, ben oltre i 10 centimetri. Troppo per una bici da corsa, ma anche per una bici normale, figuriamoci poi se in sella c'è un anziano, senza contare poi che anche un motorino di ritorno dal centro commerciale, magari che rientra in città, per via di una sbandata, anche per via del traffico pesante presente in zona, un'uscita di strada sarebbe veramente disastrosa. Esattamente, nel senso che io ho perso un attimo il controllo della linea retta, ho cercato di frenare, quando mi sono reso conto che ormai non avrei fatto più in tempo, mi sono attaccato al cielo, nel senso che ho cercato di mantenere il baricentro bello diritto, in modo tale da non perdere l'equilibrio e cercare in qualche modo di fermarmi. La striscia ancora c'è, quindi è anche abbastanza spessa. Quindi il margine è molto stretto. Sì, diciamo che in questi casi bisogna stare sulla destra, sulla riga o anche qua. Chiaro che se stai qui e purtroppo fai un errore anche di poco, quello che succede è quello che è successo a me. Sono 15 centimetri. Basta vedere la mia scarpa che sta praticamente bella sotto piano strada. In questo punto, nonostante l'asfaltatura eseguita per la Tireno Adriatico, la rotonda è in condizioni davvero disastrose e se a questo si somma la criticità di questo punto indicatoci dal segnalatore, forse non sarebbe male per chi di dovere porci rimedio quanto prima. Però ecco, pensavo che fosse importante renderlo noto per tutti che c'è questo problema e chi può se può fare qualcosa per sistemarlo.